Questo programma vi ho offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Abbiamo il piacere di avere con noi Guido Sgardoli che è scrittore e è un nome affermato nella letteratura per ragazzi e anche per giovani adulti in generale nella letteratura, quindi uno scrittore. Guido, che cosa ti ha portato ad essere scrittore? Allora, la lettura, prevalentemente la lettura e quindi non conosco nessuno scrittore o scrittrice che non sia un lettore o una lettrice. Quindi da ragazzino l'esempio di mia madre che leggeva libri mi ha portato a incuriosirmi sulle storie e poi semplicemente quando ero all'elementare a farmi una domanda molto semplice. Io sarei capace di scrivere una storia come quelle che leggo nei libri? La domanda era ovviamente, anzi la risposta era ovviamente no, perché non ero uno scrittore, però mi piaceva provarci. Ci ho provato, non ho mai smesso fino a quando poi ho cominciato a pubblicare, anche se la vita mi aveva portato a fare altro. Perché leggiamo nella tua biografia che tu sei veterinario, sei laureato in medicina veterinaria, quindi sei passato anche da lì, hai fatto esperienza di contatto? Sono passato dopo, nel senso che a volte mi chiedono ma come mai se facevi il veterinario e poi hai fatto lo scrittore? Io li corrego dicendo la domanda giusta sarebbe, visto che facevo già in qualche modo lo scrittore, anche se non ero pubblicato, ma amavo scrivere, mi dilettavo nella scrittura, perché hai fatto il veterinario? La domanda giusta è questa, perché all'epoca secondo la mia famiglia non era un lavoro praticabile, un lavoro vero, io avevo la passione anche dei disegni, del fumetto, dell'animazione, ma erano tutte cose considerate passioni e quindi ho preso una strada un po' più concreta, sebbene alla fine sia tornato a fare quello che facevo da ragazzino, invento storie. E quindi questo inventare storie per te ha significato scrivere prima dei racconti, essere pubblicato in antologie e quindi far parte di opere collettive dove appariva anche il tuo nome, fino a diventare un grande autore, perché è la cosa che forse chi ti vede magari non conosce perché di solito in copertina non c'è la faccia dell'autore, tu hai ricevuto tanti premi a livello italiano, a livello internazionale, perché evidentemente la tua scrittura arriva al destinatario, colpisce e lascia il segno. Come puoi ancora approfondire questo percorso che hai fatto? Dal tuo fare dei piccoli racconti allo scrivere addirittura dei grandi romanzi di più di 600 pagine? La pratica, il mestiere, quindi ho fatto tanta esperienza però considerandola sempre un hobby e quindi andavo avanti con gli studi, poi ho cominciato a lavorare come si diceva come veterinario, pensando sempre che questa cosa fosse un hobby come c'è chi suona la chitarra, chi gioca a calcetto con gli amici, però non ho mai smesso, questo probabilmente è stato il segreto e quando poi è arrivato il momento quasi casualmente di pubblicare, cioè dopo oltre i 30 anni, spinto da amici ho mandato per la prima volta un mio scritto a un editore, è stato pubblicato subito, ma probabilmente per il fatto che io era più di 30 anni che scrivevo o provavo a scrivere, quindi un po' di tutto, uno comincia con i raccontini, come diceva, un po' di poesie, insomma si cimenta su vari livelli e poi vede qual è quello che funziona. E che cosa senti quando il tuo libro scala le classifiche, quando vince dei premi, che cosa significa per uno scrittore come te essere riconosciuto? Perché si scrive anzitutto per se stessi, ma poi si scrive per gli altri? Sì, anche perché io mi sono considerato per molti anni un veterinario che faceva lo scrittore per hobby e quindi quando già avevo anche una quindicina di libri pubblicati continuavo a vedermi come un veterinario che per hobby pubblicava libri. Poi qualcuno ha cominciato a dirmi, guarda che forse non è così, quindi ancora io mi meraviglio a volte che storie che io, essenzialmente è vero, scrivo per me stesso, io sono il mio primo lettore, quindi devono convincere me per primo, poi trovano il consenso anche del pubblico e a volte anche della critica e quindi io continuo a meravigliarmi, forse non dovrei più, però mi sembra sempre quasi un miracolo il fatto che ci siano delle persone che condividono con me quella storia. Poi è vero, nel tempo si capisce anche questo, che è vero che si comincia scrivendo per se stessi, poi alla fine però ci si abitua a relazionarsi con gli altri, a parlare con gli altri attraverso i propri libri, di sé, ma non solo di sé, di quello che accade, delle situazioni, perché poi come dicevo all'inizio nel lancio in realtà qualsiasi romanzo, anche i romanzi che sembrano più lontani dalla nostra realtà, se andiamo a scavare parlano lo stesso di noi, in qualche modo, in qualche modo che a noi sembra un po' camuffato, un po' nascosto, però parlano di noi e allora quando poi uno riesce appunto a condividere le proprie idee, le proprie storie, i propri pensieri con altre persone e allora scopri che è veramente bello ed è la magia anche, una delle magie di questo lavoro. Ecco, siccome il tuo interlocutore privilegiato è il ragazzo, il giovane, vorrei far passare alcune immagini che mostrano un tuo dialogo con dei giovani lettori e fanno capire come scrivere è proprio una tecnica con delle regole precise, proviamo ad ascoltare. Allora, il giallo, tre ingredienti, allora il primo ingrediente è leggere gialli, perché se non leggete come si fanno i gialli è un po' difficile imparare a scrivere i gialli, quindi sicuramente leggerne tanti e di tanti tipi. Il secondo ingrediente, secondo me, è la curiosità, perché il libro giallo, sia quando lo si legge, sia quando lo si scrive, è come sfogliare un libro, nel senso proprio di scoprire ad ogni pagina, girando ogni pagina qualcosa di nuovo, qualcosa che invoglia ad andare avanti, questo è anche per lo scrittore, nel senso che quando si scrive un giallo bisogna sempre cercare di incuriosire chi legge e quindi la curiosità che noi vogliamo che ci sia nel lettore dobbiamo metterla noi nelle pagine e quindi essere noi i primi scrittori a farci le domande, ma cosa potrebbe succedere adesso per spiazzare il lettore, cosa potrei inserire per dare un cambio di rotta alla storia, eccetera, quindi curiosità. Il terzo ingrediente potrebbe essere quello della razionalità, allora per essere, per scrivere gialli bisogna essere molto precisi, bisogna essere dei meccanismi, perché il genere giallo ad esempio è uno di quei generi per cui non puoi improvvisare la scrittura, non è come un libro di narrativa generico, dove puoi iniziare e poi vedere dove vai a parare. Il libro giallo deve essere già costruito dall'inizio, devi avere tutti gli indizi, devi sapere esattamente chi è il colpevole, come prima cosa, anche se si svela alla fine e come si arriva a scoprirlo e quindi è necessario avere la mente molto lucida e razionale e organizzare tutto nei minimi dettagli e soprattutto farsi tante domande, ma siamo sicuri che questo potrebbe essere l'unico indizio che porta a quel colpevole oppure invece è solo un indizio così che non prova niente e quindi forse è meglio rafforzare, quindi dubitare e farsi tante domande. Ecco, come in tante opere creative conta molto la razionalità, nel senso che bisogna creare quindi molta fantasia, molta apertura ma poi anche precisione perché penso che dietro questo si nasconda il rispetto per l'interlocutore, per il lettore, quindi bisogna tenere un'alchimia particolare per riuscire a avere questo. Come la crei tu? Dove scrivi? Come scrivi? Qual è la situazione che ti permette di essere, di rispondere oltre che per il giallo anche per tutte le forme letterarie che utilizzi? Mi verrebbe da rispondere testa e cuore, è proprio l'imbeccata giusta. Siamo nel luogo giusto. Esatto, cioè testa e cuore perché è vero che ci vuole capacità organizzativa, il mestiere, la tecnica, la razionalità, non solo quando si scrive gialli naturalmente, per tenere insieme una trama, soprattutto se la trama è complessa, al di là del genere bisogna essere sempre presenti sulla storia e quindi veramente tenere le redini come se avessimo una carrozza di cavalli imbizzarriti noi dobbiamo sempre, però tutto si ridurrebbe a qualcosa di sterile, di freddo se non ci fosse il cuore e quindi se poi non ci fosse appunto un giusto equilibrio anche tra le emozioni, i sentimenti che non devono mancare in una storia, soprattutto in una storia per ragazzi, per coinvolgerli e questo però penso che alla fine anche qui sia un po' naturale, una predisposizione che probabilmente è di carattere, una persona ha nel senso che ha una giusta dose, forse anche il mio lavoro per tanti anni mi ha aiutato, quello di veterinario perché spesso dicevo anche ai giovani veterinari che venivano a fare pratica da me eccetera che anche lì ci vuole testa e cuore, cioè cuore perché comunque ha a che fare con esseri viventi, non sono oggetti che tu ripari, li ripari ma sono esseri viventi e ci sono dietro i proprietari che hanno tutta una serie di situazioni, psicologie, caratteri, a volte dipendono dai loro animali, bisogna avere molto cuore, però bisogna essere anche molto razionali quando si fa i veterinari, così come quando si scrive, sapere che si sta facendo qualcosa e bisogna farlo in un certo modo preciso e non a caso perché altrimenti rischi la vita di un essere vivente. E quindi forse, non lo so, questa cosa che io a volte dico che è intuitiva, per me è istintiva, forse in realtà non lo è ma deriva anche dal lavoro che ho fatto per tanti anni. Ti ha dato una linea da seguire anche nella scrittura? Secondo me sì, un po' sì. Ecco, io non sono riuscito a contare quanti libri hai scritto, però alcuni li hai fatti anche con l'edizione di San Paolo, in particolare hai vinto anche dei premi, li vuoi ricordare un po' i loro titoli? Sì, l'ultimo è uscito proprio un mese fa e si intitola Siberia ed è candidato allo Strega Ragazzi e Ragazzi e ho avuto particolare fortuna con l'edizione di San Paolo perché i due precedenti libri che sono stati The Frozen Boy e L'Isola del Muto a qualche anno di distanza, uno dall'altro hanno avuto tutti degli ottimi riscontri di critica, di pubblico, hanno vinto dei premi molto importanti, tra cui L'Isola del Muto ha vinto il premio Andersen che nel mondo della letteratura per ragazzi è, insieme al premio Strega, il premio più importante che c'è in Italia e quindi lo stesso Siberia chiude un cerchio perché idealmente questi tre libri sono collegati, non tanto nelle storie che sono molto diverse e si ambientano addirittura in posti e in epoche diverse, ma dal punto di vista concettuale ho compiuto una serie di riflessioni attraverso questi tre libri sull'uomo, attraverso varie relazioni familiari, padre e figlio soprattutto in The Frozen Boy, intergenerazionari nell'Isola del Muto che è una saga familiare che occupa 170 anni con 7-8 generazioni e poi invece in Siberia l'individuo con se stesso e quindi c'è solo un protagonista in quest'ultimo romanzo che si trova in mezzo alla natura e fa i conti con il proprio passato, i propri sogni, le ambizioni ma anche a un'idea eventuale di futuro se riuscirà a uscire da quella situazione. Quindi capiamo quale ricchezza di comunicazione e di educazione e di possibilità di dialogo con il lettore che c'è nei tuoi libri. Ne riprendiamo il discorso tra poco anche mettendola dentro tutta questa grande realtà che è la letteratura e poi lo specifico della letteratura per ragazzi. Continuiamo il nostro dialogo con Guido Sgardoli, scrittore in particolare scrittore per i ragazzi, un ambito sempre molto vivace della letteratura, un ambito che è nato abbastanza recentemente rispetto alla storia della letteratura perché se non sbaglio è un po' l'attenzione al bambino, è la sua identità che si stacca da quella dell'adulto con le sue necessità, quello che serve un po' l'illuminismo e tutto quello che ne consegue con Rousseau che dà un'attenzione particolare poi con tutti i grandi pedagogisti. Ecco allora si scrive avendo davanti dei ragazzi che aspettano di essere formati, di capire di più della vita e tu cosa riesci a dare a loro Guido? L'importante è che loro non abbiano questa sensazione perché altrimenti per troppo tempo, anche in Italia il libro per ragazzi è stato visto come un libro che doveva chiaramente educare, formare cittadini, però poi allo stesso tempo questo si è rivelata anche un'arma a doppio taglio perché purtroppo si è identificato troppo spesso il lettore come un alunno, il che significa che il libro poteva non essere divertente, poteva non essere di intrattenimento pur formando ma soltanto qualcosa che veniva forse avvicinato di più al mondo scolastico, cioè un insegnamento. Quindi secondo me il trucco è parlare di cose importanti nei romanzi, nelle storie e si può parlare di tutto con i ragazzi, l'importante è come lo si fa, ma non ci sono argomenti che non si possono toccare anche perché è giusto che adesso non stiamo parlando di bambini piccoli naturalmente, stiamo parlando di ragazzi dalle medie in su, è giusto che si confrontino con quello che c'è nella vita reale e nel mondo, non possiamo fare in modo che la letteratura sia una bolla dove tutto come una fiaba, dove tutto finisce bene, la vita non è questa e i romanzi hanno il dovere di raccontare la vita per com'è, quindi non ci sono tabù negli argomenti secondo me, bisogna sapere come affrontarli. E poi bisogna avere l'accortezza di, come dicevo un po' prima, di camuffarli e quindi parlare anche di temi importanti, ma vestendoli con un'aura di avventura, di giallo, dopo qui si possono sbizzarrire nei generi, il fantasy, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista, avendo un po' di immaginazione, però il trucco secondo me è questo e quindi avvicinarli con una storia che apparentemente può anche solo intrattenere e divertire e anche se facesse solo questo e non riuscisse a trasmettere nulla, va bene lo stesso, la lettura di per sé è formativa al di là dei messaggi che porta, poi se si riesce anche a veicolare qualche cosa e questo qualche cosa arriva magari proprio inaspettatamente al lettore, allora lo spiazza di più, lo colpisce di più, perché dice ho comprato un libro giallo, però cavolo questa storia qui mi fa riflettere su e allora lì secondo me l'obiettivo è pienamente raggiunto, qualche cosa rimane e ha un senso quello che facciamo insomma. Ma viene da pensare a due grandi titoli della letteratura per i ragazzi che hanno marcato un po' la storia in Italia, cioè Pinocchio e poi anche il libro Cuore, quindi forse questo invece che portare un'apertura anche al nuovo hanno un po' limitato il percorso della letteratura, segnano ancora oggi oppure ci si è svincolati da questa didascalica letteratura che a volte rischia un po' di chiudere… Cuore segna un po' il passo dei tempi perché Cuore effettivamente aveva un intento pedagogico sfacciatamente dichiarato insomma e poi pensiamo solo a una battuta che io faccio ogni tanto che insomma nello stesso periodo De Amicis proponeva Bottini e De Rossi e Twain rispondeva con Huckleberry Finn, Tom Sawyer, cioè un avviso negli stessi anni. Mentre Pinocchio, nonostante ci sia il ravvedimento di Pinocchio, quindi diciamo il filone è quello del alla fine va tutto bene, tutto si ricompone, però Pinocchio ha avuto e ha ancora un po' il merito di essere almeno negli intenti iniziali della storia abbastanza dissacrante, un po' il Pippi Calzelunghe italiano, prima di Pippi Calzelunghe e questo secondo me è ancora apprezzato, ecco quindi lo spirito così un po' battagliero e di bambino come dire… Penitenze, sì sì ecco di Pinocchio, di bambino pupazzo, marionetta c'è ancora, cuore secondo me ormai appartiene veramente a un passato che non c'è più, però è vero in Italia noi abbiamo avuto per lunghi periodi una letteratura molto diversa da quella di altri paesi, a parte il mondo anglosassone ma anche paesi europei del nord Europa, penso appunto la Germania, la Francia, tutti i paesi nordici, poi la Svezia eccetera, ho citato prima la Lindgren e noi siamo rimasti indietro, ci siamo mossi dopo, insomma io direi che con l'avvento di Rodari c'è stato un grande cambiamento nella letteratura italiana. Ovviamente oggi ci si confronta con un mondo della comunicazione anche per i giovani, per i ragazzi che è sì ancora libro, ma libro che poi si interfaccia con tanti altri mezzi, con le reti sociali, con un mondo che attorno avvolge il ragazzo, il giovane e quindi gli fa vivere un approccio al libro forse un po' diverso. Che cosa ha portato questo cambiamento anche nel tuo modo di scrivere e nel modo di ricevere il libro da parte dei giovani lettori? Innanzitutto il fatto che a volte il libro viene visto come un antagonista, ad esempio a un videogioco o appunto al tempo passato sui social o, una cosa che va molto anche questa adesso, alle serie tv o al guardare le serie tv e io cerco di far capire nei miei incontri con i ragazzi e le ragazze che non è al posto di, il libro deve essere una cosa diversa da e quindi dobbiamo noi in primis, noi autori trovare il modo di accattivare le simpatie dei lettori verso i libri in modo che poi scelgano un po' di libri, un po' di social, un po' di serie tv, un po' di videogiochi in modo che nella vita possano assaggiare un po' di tutto, quindi non ho la pretesa di dire che i ragazzi devono abbandonare tutto perché devono leggere i libri, questo non sarebbe neanche praticabile, però sicuramente il libro è una cosa diversa e vale la pena di essere esplorata, al pari degli altri campi che loro praticano, il problema è che il libro però deve fare il libro e almeno io, questa è la mia opinione, quello che cerco di fare nei miei romanzi, il libro non deve scimmiottare una serie tv o un videogioco o un social, perché altrimenti cerca di assomigliare a qualcosa che non è quello che dicevo prima, invece deve mantenere una sua identità che deve essere al passo coi tempi, deve essere attraente per i lettori, ma deve restare un libro, Baricco una volta ha detto che i libri devono, soprattutto quelli che restano classici, diciamo che fanno avanti nel tempo, devono attingere al linguaggio dei libri e non al linguaggio della tv o dei videogiochi e quindi ripeto, devono avere un'identità precisa ed è quello che noi ci dobbiamo impegnare come autori a mantenere, io vedo troppi libri che assomigliano ad altri prodotti, invece il libro deve mantenere il suo modo comunicativo che passa i tempi, continua, come dire, è stato un po' attaccato da tante possibilità diverse di comunicazione, ma sta superando anche questa fase in cui si diceva il libro stampato in particolare non ci sarà più, invece capiamo che leggerlo da un supporto elettronico non è la stessa cosa, toccare le pagine, la carta ha un suo significato, sentire il profumo, l'odore del libro ha un suo significato e quindi poi tu in questa condizione come quando ti vedi stampato cosa senti? Quando vedi il libro che esce e lo vedi davanti a te? Beh dicevo prima ancora, non dico che mi sembra impossibile ormai dopo tanti oltre 100 libri, sarei bugiardo a dire, però lo considero sì ancora un piccolo miracolo, quindi io che sono appunto, vengo da quel mondo, mi sono formato sui libri, non esistevano neanche i computer quando leggevamo noi, quindi quello era il libro, era una cosa sola, non c'erano social, non c'era neanche la tv perché c'erano due canali e quindi vedermi stampato in un libro come diceva giustamente, cioè sentire l'odore, toccare, sfogliare le pagine e sapere che quelle parole sono nate dalla mia testa rappresenta ancora una grandissima soddisfazione per me. E cosa diresti a un genitore, una famiglia, un nonno magari che è lì e deve decidere di offrire un libro per una circostanza speciale, che cosa ha di più un libro rispetto ad altri regali? Il libro intanto rispetto ad altri regali secondo me dura di più, perché i regali soprattutto tecnologici o passano di moda o si rompono o stancano, il libro è difficile che passi di moda, non si rompe a meno che uno non lo butti in piscina, funziona sempre, si può leggere poi in vari modi, a vari livelli a seconda dell'età, io tante volte ho riletto anche libri che avevo letto da ragazzino e li ho riscoperti, mi sembrava di aver letto quel libro per la primissima volta e quindi diciamo che ha parecchi vantaggi più di altri regali, tutto sta anche lì, attenzione ai genitori, agli adulti a scegliere i libri per ragazzi, perché una scelta sbagliata può far allontanare il giovane lettore dai libri e quindi è molto importante documentarsi o farsi consigliare da chi è più esperto e non andare, classico errore, andare a beccare l'adulto o il genitore che va a prendere in libreria il classicone perché l'ha letto da ragazzo, ma non tutti i classici sono riproponibili anche oggi, quindi bisogna farsi aiutare da qualcuno, da un libraio, da un bibliotecario e scegliere i libri giusti e poi anche sceglierli in base al fruitore, perché non tutti i ragazzi e le ragazze sono uguali, quindi bisogna sapere un po' i gusti, sapere cosa piace e cercare di andare in quella direzione lì. E tu riesci a instaurare un dialogo anche con i tuoi lettori, ti scrivono, chiedono qualcosa a te, che cosa succede una volta che il libro è lasciato? Io l'incontro perché ormai da vent'anni, da quando pubblico, faccio incontri nelle scuole, nelle biblioteche, nei festival e quindi io in questi anni ho incontrato, non so, decine di migliaia, forse centinaia di migliaia in vent'anni di ragazzi, faccio tantissimi incontri, dalle elementari fino alle superiori e quindi sì, mi chiedono, a parte parliamo, parliamo dei libri, parliamo di come i libri, come dicevo prima, rappresentano in realtà parte delle loro vite, anche se loro spesso non se ne rendono conto e poi danno sfogo a tutte le curiosità, sia sulla scrittura, ma anche sul libro che hanno letto, perché quel personaggio fa così, anzi che cosa ha, come ti è venuta l'ispirazione, quante pagine hanno i tuoi libri, quelle domande che a volte… però loro hanno tantissime curiosità e quindi a me piace anche insomma incontrarli e soddisfare un pochino e poi ho il feedback, ho il riscontro di quello che ho scritto, perché insomma i ragazzi, sì è vero quando sei lì magari col docente davanti cercano di essere anche gentili, però alla fine quando si scaldano se il libro non è piaciuto te lo dicono. Te lo dicono chiaramente, sì. E quindi il modo migliore per conoscere Guido Sgardoli è andare in libreria, ordinare il libro, affrontarlo, magari poi anche un adulto può leggerlo, giusto? Non è… la tua letteratura è aperta. Moltissimi dei miei libri sono stati letti anche dagli adulti, soprattutto questi tre che citavo prima di San Paolo, sono libri veramente per quelli che vengono definiti giovani adulti e quindi sì, sono destinati a ragazzi e ragazze abbastanza grandi, quindi anche adulti. E quindi c'è la possibilità per tutti di approcciare il mondo fantastico e interessante di Guido Sgardoli. Grazie per quello che ci hai detto. Grazie a voi, grazie a lei. Questo programma vi è offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.